Oh, allora, tu hai capito? Perché qua non è che possiamo sapere solo l'italiano, qua dobbiamo conoscere anche un'altra lingua, almeno l'inglese, in fragilità, almeno lì, l'inglese è importante perché noi stiamo in una roba, qua tutti quanti parlano l'inglese, noi partiamo soltanto da napoletano, tu parli solo napoletano e tu parli solo paresi, dobbiamo imparare un'altra lingua e per questo che ti ho portato qua, questo corso di full immersion, sai che cos'è il full immersion? No, il full immersion praticamente è che arriva la professoressa, la professoressa, tutto quello che dice a fare, no, dobbiamo ripetere, questo è fondamentalmente, capito? Perché così gli inglesi ci ho parlato a presto, a presto, capito? Perché non è possibile, questa è la all'oltre è pure una pre布 dosdata di madre lingua, ma non si sa, magari non farti sta venendo, sta venendo, vai, va, vai! Staccumcio! Staccumcio! Boh… Good morning students! 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 I am teacher. I am teacher? No… I am teacher. I am teacher. No, I am teacher. No! No, I am teacher. I am teacher. You are students. I am teacher. No, I am teacher. You are students. No, I am teacher. You are students. Oh shoot. Oh shoot. Ok, students, today I will teach you the day of the weeks. And, um, non capista. Today I will teach you the day of the weeks. Pepe scusi days of the weeks. No, 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 no. Scusi, scusi prof. Yes, sir. Ah, niente sera! Perché noi stasera abbiamo visto i siti dei nostri weeks. Non sappiamo anche a cosa so, i siti dei nostri weeks. Perché noi di sera non siamo venuti. Perché noi veniamo un giorno sì, un giorno no. E quindi stasera non l'abbiamo visto, capisco? Che sera? No, stasera. Ops, stasera. Ops, stasera, ops. Non mi euro d'oste perché siamo d'oste. Ah, tu capisci? No, no, no. I'm sorry, I'm sorry. Ah, a sordata, a sordata. A me sordata! No, I am sorry, I am sorry. Ah, a sua sorella. No, no, no. Repeat. Repeat. Today is Monday. It's okay. Tomorrow will be with me. Send me. Tuesday. It's okay. It's okay. It's okay. will be with me. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Who's day? Who's day? Who's day? Who's day? Who's day? Who's day? Sit down. Hey, sit down. Not loud. Wow. Let's lose those above. Shut down. Sharipe. 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. What is this? It is a this No, 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 no This is a pen This is a penna No, 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 non è Non c'ha penna Se ci vuosi ganci, c'ha penna Se ci vuosi ganci, c'ha penness Ma non c'ha penness perché non c'è ganci Capi? È giusto? È giusto È giusto, non ganci Non parto Se io te ne ho un poch di ganci Io prendo me c'è cinque metri di fospina Se giravo, giravo, giravo I tu li torrano a capato E poi l'unico tutte le le cape facem una capa Ma io puoi singli e comincio a capire La mia... Signed round, sign round Ok, students The first lesson is finished The first lesson is finished No, the first lesson is Finish, finished No, the first lesson is It's finished, finished, go home No, go home Go, go home Go home Go home Go home Go home Molti am positives Cos'č che è successo? Go home Che è successo? robotic Go home C'ček iedereen pade le coop Chitemerいう place Mark esa lita en un fulmini la lita Go hospitals It's fini It's fini It's finish The road Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Grazie.